un nuovo gioco benvenuti in questo nuovo video è un nuovo gioco non è nuovo boh vabbè modalità carriera con un contratto da noi cerchi di avere un migliore accordo allora modalità carriera semplice allora iniziamo già file di croft port ci sono anche tre squadre italiane 4 il bari se magari si muove sto mouse no non si vuole muovere vabbè sappiamo tutti valutazione del presidente vabbè dai inizia lavoro chi se ne frega chi se ne frega noi siamo bravi ragazzi e iniziamo ovviamente va bene va bene non me ne frega è Antonio Conte ma vabbè accetta l'incarico io non posso non accettare ok ah allora squadra meno forse si è giocato non posso accettare quindi devo tornare indietro allora allora io almeno queste dai interviste per lavoro ok 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 accetta l'incarico ok ok almeno South Anton possiamo diciamo accettare ok va bene va bene non ci importa proprio indietro grazie ok questo è il menu principale carino non ci capirò niente però perché io non capisco allora c'è contro i rangers ok ci mette 30 anni a caricare ah non costo lo stadio beh è un bel quartiere niente da dire è quartiere no un quartiere dove c'è un campetto calcio è sempre bello due minuti di registrazione per adesso devo spostare no mi si è vogliato allora contro il piede io gioco ok ok spero di giocare anche grazie questo che cos'è centro di riabilitazione via tesserino vedi offerte monete cazzi si indietro ok mercato io sono bravo ok non è disponibile email andiamo a vedere pubblicità dello stato posta in arrivo posta in arrivo incontri 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 ancora posta in arrivo dai ok come si fa ok vado avanti si ogni giorno però è un po' noioso così questo che sembra un nerd vai offri contratto che bello che sono io sembra Antonio Conte no no non Antonio invio offerta va bene chi se ne frega nerd basta che arrivi e ok accettiamo abbiamo un altro diciamo qua durerà un sacco mi dispiace contratti scadenza posta in arrivo vedi profilo no questo mi sta offri contratto allora io ti do cinque anni no dai cinque anni accetta accettate cinque anni ok beh però se devo continuare sempre a fare queste cose posta in arrivo ok anche questo che rock offri contratto io io non ci voglio pensare a queste cose quindi metto cinque anni invio offerta accetta ok cinque anni comunque andiamo avanti ragazzi questo diciamo è il primo video di questa lunga serie perché sarà lunga profilo manager continuando ora mi si era spenta la registrazione ora vedo tutto vedete meglio anche io vedo meglio offri contratto dai offriamo un contratto allora noi non vogliamo avere allora però abbassati sto stipendio è un po' più alto qua dai è un'offerta comunque aumentiamo il bonus di firma abbiamo accettato la tua offerta che schifo che fai però vabbè andiamo qua consiglia no 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 poi se ne arrivo buttiamo via tutto poi se ne arrivo poi se ne arrivo ho un altro perché dai poi se ne arrivo poi se ne arrivo ok io non sto leggendo niente questo gioco è troppo ok io vado a vedere un po' di mercato non posso è l'unica cosa che mi piace del calcio no questo mi sembra sorry questo che cos'è assistente per il manager ok ok due anni però è un po' troppo quando il manager si ritirerà ci sarai tu grazie ma rifiuto l'offerta mentre il bonus di firma ok ti piace gra ora ora sei rifiuti acoria 5.000 oh me l'hai messo tu ok va bene l'abbiamo preso questo tizio che è maleducato allora ma io non posso neanche fare calcio largato allora posto in arrivo posto in arrivo posto in arrivo e ancora questo qua non basta non voglio troppe scatole andiamo avanti andiamo avanti eh southport concedere l'autorizzazione ok sponsor va bene li possiamo mettere gli sponsor non è un problema per noi devo alzare un po' il volume eh no mi si è baggato ragazzi mi dispiace devo ritornare qua ok ora sentirete un po' meglio però però il tuente farà avanti la prossima partita è contro il tuente caso così per mettere una bella partita posto in arrivo io basta ok ragazzi c'è un po' troppo volume basso quindi sto cercando di alzare il mio volume perché secondo me è troppo basso quindi alzatevi il volume del video perché secondo me è troppo basso 5 giorni una modifica che bello ok ho guardato i giovani che possiamo portare in squadra posso chiedere vedi profilo allora questo qui offriamo un contratto allora visto che si giovano 5 anni eh non potrò potrò chiedere però io qua ti accontento quasi 8000 gli stipendi 8000 gli diamo non posso più di 6000 quindi inviamo questa offerta ok oh me l'hai messo grazie è un continuo è un continuo a lottare vabbè io finisco questo video penso che sia di 10 minuti qualcosa dovrebbe finire ora quindi ragazzi iscrivetevi al canale mettete mi piace questo è un nuovo video di non mi ricordo mai questo nome del gioco comunque questo video finisce qui e ciao